Quest'anno seguirò insieme a Federico il gruppo Under 16 e Under 18, oltre ovviamente a giocare anche in Serie D. Sono abbastanza emozionata perché è la prima esperienza con l'Olimpia come braccio destro di un allenatore. Spero di dare il meglio sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di supporto emotivo. Dato il mio percorso di studio posso comunque dare un contributo alle ragazze, magari per quanto riguarda la gestione delle emozioni e una parte un pochino più emotiva. Dal punto di vista tecnico posso ovviamente dare il mio contributo per quanto riguarda la mia esperienza e tutti gli anni in cui ho giocato, in cui comunque mi sono destreggiata un po' in palestra anche insieme ad altri allenatori in affiancamento. Per quanto riguarda le mie aspettative, spero che col gruppo della Serie D riusciamo ad essere un bel gruppo solido e soprattutto dal punto di vista del legame di squadra, che è una cosa che forse un pochino è mancata l'anno scorso anche perché sappiamo bene che i risultati non arrivano solamente dalla parte tecnica ma anche dalla parte emotiva. Invece per quanto riguarda il gruppo Andreselicender18 mi aspetto che ci sia un feedback positivo per quanto riguarda la mia presenza, che le ragazze si sentano libere di parlare con me, spero di riuscire a farle sentire quanto più a loro agio e che si instauri un bel rapporto di fiducia.